linux mint sempre più inutile forse sì ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di claudio appunto linux mint inizia a vacillare dal fatto che si sta distaccando da ubuntu canonical ha preso direttamente la derivata ubuntu cinnamon e l'ha inserita all'interno del suo sito web vi faccio vedere qui appunto alla voce derivate oltre le più note che tutti conosciamo come sub punto punto mate o matte che dirsi voglia in basso troviamo ubuntu cinnamon andiamo nel loro sito web per vedere appunto cosa offre abbiamo qui la possibilità già di scaricare quindi io andrei a scaricare direttamente ubuntu cinnamon remix si basa sulla 2204 quindi sulla lts andiamo a scaricare sono 4 giga e 8 io farò a nulla per comodità e vi faccio vedere ovviamente il vecchio caro rufus per realizzare la nostra pendrive pendrive che ci servirà per avviare poi la live di ubuntu vi ricordo che basta in questo caso una chiavetta da più di 4 giga perché sono 4 giga 8 io quindi andrò inserire questa da 16 giga così non abbiamo alcun tipo di problema al solito andiamo a scaricare rufus da qui quindi facciamo l'ennesimo download di rufus perfetto spostiamoci nella cartella di download e andiamo a fare doppio clic in modo tale che si avvierà appunto rufus qui abbiamo tutto il necessario per cominciare innanzitutto la nostra pendrive verrà vista in automatico qui facciamo seleziona la iso scegliete ubuntu cinnamon 2204 un semplice clic poi apri e da qui lasciate il tutto invariato qui potete dare anche un etichetta al volume per esempio mettiamo ubuntu cinnamon non do spazio si evitiamo problemi e facciamo avvia ok per confermare vi dirà che cancellerà tutti i dati assolutamente sì e al termine del processo al solito riavviate il computer entrate nel bios o comunque avviate le opzioni di avvio rapido per scegliere la pendrive come disco di boot io qua vado a annullare il tutto e poi ci ritroveremo in questa condizione quindi ci spostiamo su virtual box questa la leviamo e abbiamo il nostro computer virtuale e qui è l'avvio di ubuntu cinnamon semplicemente diamo invio per far partire il tutto perfetto allora andiamo a selezionare la lingua italiana ovviamente potrei fare anche prova ubuntu e dopodiché installare quindi vi faccio vedere facciamo prova ubuntu così lo avviamo in live insomma per verificare un attimino se tutto va bene se ci riconosce la rete eccetera ok diamo una sistemata alla risoluzione scendiamo per dare applica ok ragazzi ho sistemato la visualizzazione questo è ubuntu cinnamon in versione live come te qui abbiamo l'installer già possiamo vedere il tutto qui siamo da live io direi di installare ovviamente l'installer è quello classico a cui siamo abituati una my con ubuntu magari a questo giro posso anche rispuntare un cione di riferimento anche chiediamo una nota blu a questo video lo sfondo fa schifo ma è il classico di ubuntu con questa colorazione particolare no non lo voglio cambiare allora c'è l'installer classico vi dicevo quindi lingua italiana va benissimo la tastiera io per mia fissazione metto sempre ibm 142 non so perché però preferisco questa allora installazione normale va più che bene solito consiglio fate sempre installa software di terze parti e scariche gli aggiornamenti durante l'installazione top ovviamente installazione minima se proprio volete gli strumenti di base però diciamo che è sempre sconsigliato il tutto ok poi parte dove ci chiede se cancellare l'intero disco state sempre molto attenti se avete anche windows quindi leggete bene consiglio sempre di mettere un sistema per ogni singolo disco o comunque crearvi le partizioni se siete più pratici scegliamo la prima voce lui mi chiederà di confermare il tutto avanti e ora poi la classica località roma va più che bene ok nome utente al solito diamo claudio e come password uno due tre quattro più che sufficiente riguardi password all'avvio ok vabbè mi dice password corta ma va bene così e qua abbiamo il classico installer quindi ci vediamo appena finisce il tutto e few moments later bene ragazzi ha terminato l'installazione possiamo continuare la prova ma ovviamente conviene riavviare e rimuovere la pen drive così da poter usufruire già di ubuntu cinnamon o cinnamon che dir si voglia direttamente allora andiamo a rimuovere ora la pen drive io simulerò da qua ovviamente rimuovi disco virtuale e date invio per riavviare il tutto bene ragazzi primo avvio abbiamo ovviamente gli aggiornamenti da poter fare con praticamente il gestore classico di ubuntu come vedete abbiamo diversi aggiornamenti da fare classici pacchettini da installare vabbè ricordo in seguito quindi perché scegliere ubuntu cinnamon piuttosto che linux mint beh qui abbiamo direttamente ubuntu che si basa su debian lì abbiamo linux mint che si basa su ubuntu e poi su debian quindi sostanzialmente saltiamo un passaggio abbiamo cinnamon vanilla quindi senza particolari personalizzazioni dal team di sviluppo come nel caso di linux mint che è super personalizzato e come parco software praticamente sono gli stessi come vedete abbiamo firefox per quanto riguarda internet e poi la suite library office quindi l'installazione classica per quanto riguarda il software center vi faccio notare la presenza di gnome software e di snap store quindi qua non c'è la personalizzazione come su ubuntu classico la 2204 dove hanno inglobato il tutto abbiamo entrambi e i software center volevo vedere se mi installa google chrome da qui giusto per aggiungere un browser web che di solito uso come risorse vi faccio vedere il monitor di sistema eccolo qua ma dovremmo essere sul canonico 1 giga e 5 infatti perché comunque cinnamon non è proprio leggerissimo vi ricordo 4 giga di ram su questa macchina virtuale due core messi a disposizione il software center resta sempre non lo so mamma mia vediamo se c'erano aggiornamenti da fare per quanto riguarda il software center che di solito scarica sempre un pacchettino di aggiornamento la linea c'è perché comunque firefox naviga fatto già una piccola prova andiamo sul mio canale youtube eccolo qua perfetto è comunque naviga c'è non ha alcun tipo di problema qua abbiamo l'ultimo video che ho fatto è naviga qua vabbè la pubblicità sempre con noi io vi ringrazio per il supporto che avete dato agli ultimi tre video incredibili ve lo lascio ve li lascio anche qui sotto in descrizione sì comunque va perfetto firefox vabbè del resto è ubuntu 2204 ragazzi non è che cambia che c'è il d e cinnamon al suo interno ma per il resto è perfetto vediamo se funziona lo sgancia video così posso fare così sì funziona perfettamente il software center come al solito no come personalizzazione ragazzi è super personalizzabile in puro stile comunque di cinnamon abbiamo le classiche opzioni di personalizzazione i sfondi vabbè quelli sono sempre opzionali però ne abbiamo veramente un bel po per esempio andrei a mettere qualcosa di più gradevole come potrebbe essere questo che almeno riprende un po i colori di ubuntu o anche questo non è malvagio e poi vabbè abbiamo il classico nautilus per quanto riguarda qui anzi nemo scusatemi per la gestione delle cartelle non so dove è venuto nautilus però comunque abbiamo il classico nemo e cosa dire ragazzi di girare gira fluida cinnamon comunque lo conosciamo tutti ripeto rispetto al linux mint non abbiamo particolari personalizzazioni ovvero aggiorna software e quello classico di ubuntu c'è il vecchio e caro h top per i nostalgici gestione delle stampanti le preferenze sono insomma quelle classiche che siete abituati a vedere su cinnamon né più né meno vediamo le informazioni di sistema per farvi vedere un attimino il tutto versione 5.2.7 per cinnamon il kernel è il 5.19 queste sono le caratteristiche della macchina virtuale nonché poi del mio computer nulla io questa macchina virtuale la tengo perché voglio chiedervi se vi va magari una personalizzazione di ubuntu post installazione io non aggiungo nulla per ora a questa macchina virtuale quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se conoscevate questa derivata oramai reso ufficiale da canonical per quanto riguarda cinnamon su ubuntu quindi senza particolari sbattimenti installare il die e poi renderlo quello definitivo io vi ringrazio sempre per aver visto il video vi ricordo di iscrivervi perché sempre di più non siete iscritti quasi l'ottanta per cento di voi non è iscritto al canale poi vi perdete comunque i nuovi video perché non vi arriveranno né ora né mai la notifica e nulla like e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao iscriviti al canale